La parola d'ordine per il Comune di Fano è efficientamento energetico. È stato presentato dal Sindaco Seri, gli Assessori Fattori e Brunori, insieme all'Ufficio Energia Comunale Davide Barbaresi, il contributo di 310.000 euro ottenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Di questi 310.000 euro, 165.000 verranno dedicati all'Istituto Nuti e 145.000 all'Istituto Gandiglio per la sostituzione in entrambi i plessi della caldaia con maggiori prestazioni energetiche e poi la rimozione delle vecchie lampade con l'installazione di nuove LED, ottenendo così una riduzione dell'inquinamento ambientale all'interno dei due edifici. Inoltre, come previsto dal bando, i lavori dovranno essere conclusi entro il mese di giugno di questo anno. Questo è il risultato di una strategia che dal 2020, da quando abbiamo inaugurato il progetto di efficientamento energetico per il Comune di Fano, stiamo portando avanti. Una strategia che porta i suoi frutti. Siamo riusciti a partecipare a questo bando, abbiamo vagliato una quindicina di strutture e poi abbiamo deciso di partecipare con due strutture nella sostituzione del generatore di calore, relamping e fotovoltaico. Questo è molto importante perché avere una strategia, avere dei dati, ti permette di andare a colpo sicuro. Stiamo prevedendo poi per la riapertura del bando, di cui abbiamo avuto notizie la settimana scorsa, altre tre strutture che saranno presumibilmente, dobbiamo ancora definire le ultime cose, la scuola Trottola, la palestra Zattoni e poi Casa Archilei. In particolare, per quanto riguarda Casa Archilei, pur non essendo energivora, è importante che venga efficientata e valorizzata e che diventi veramente un polo culturale per la parte relativa all'efficientamento e all'ambiente. Durante la conferenza si è rimarcato come grazie a quest'azione verranno risparmiati in bolletta circa 60.000 euro, cifre di ritorno importanti per l'amministrazione comunale che potranno essere spesi per altri interventi. Con la nascita dell'ufficio Energia ha dato una svolta e con i primi risultati, che non sono banali, sono importanti, bisogna sottolineare questi aspetti. Uno, la strategia che è quella di efficientare attraverso anche i bandi GSE, incamerando nuove risorse che possiamo utilizzare per altri interventi. Nell'altra, portare risparmi che ci consentono nel tempo di riutilizzare risorse risparmiate in altri servizi e l'altro, lasciatemelo dire, è anche un'attenzione verso le problematiche dell'ambiente perché significa tutelare anche il nostro ambiente.